Ah, forse il Charmander... Oh, Pikachu, l'ho trovato No, Charmander della minchia Sì, Charmander, scusami, coso, è ratta del cazzo Vabbè, è morto la coso, però vengo a prendermi Pikachu Quindi Pikachu ha uno spawn abbastanza interessante Lì, infatti, non è spawnato Però è spawnato qua Vuol dire che sono proprio pochi, a prescindere, forse Avrebbe anche senso, eh Ah, vedi, se tu metti I Wanted ti dà qualche... Hai cinque minuti extra Se magari c'ha il tizio distante o cazzo è mazzo Vediamo se lo riusciamo a catturare, Pikachu A me è entrato alla prima Pokerball Con un catch rate dell'85% Ok, sì Catch rate del 58 però è entrato, buono E mo, al suo posto, è apparso Oddish Pikachu non ha spawn fisso, compa No, lato sono felice Perché quando avevo catturato gli altri Oddish e Rata Taino apparsi appunto Oddish Rata è ogni volta lo stesso che è catturato Non è ancoratenuto Un rischio